Sì, oggi è stata una giornata molto difficile perché c'è l'avento molto leggero e purtroppo non l'abbiamo incontrato tante volte nel nostro percorso di allenamento. Però diciamo che un po' ci dispiace per la seconda regata che in partenza abbiamo preso il rifiuto del comitato e siamo caduti di foil. Però penso che siamo stati bravi sempre perché nelle prime due siamo sempre risaliti piano piano e l'ultima alla fine siamo partiti bene, abbiamo navigato da soli, eravamo molto concentrati e abbiamo dimostrato a noi stessi che possiamo fare bene. Sì, la vittoria è della squadra, di noi che stiamo in barca e di tutto quanto il team che c'è dietro per permettere al fatto che questa barca vada veloce. La vittoria dell'ultima negata è di Runa Rossa, noi siamo stati bravi a navigare bene, però è di tutti quanti, di tutti i velisti, me compreso, di tutti quanti intorno a noi. Sì, diciamo che purtroppo anche nella seconda potevamo farla venire come l'ultima, cioè siamo caduti dei foil in partenza e non siamo partiti bene. Nell'ultima invece abbiamo avuto una bella partenza e poi abbiamo navigato con la testa leggera. Quindi se devo dire qual è il grande miglioramento è partire bene e avere libertà nel campo. Sì, sicuramente finire con una buona prova tiene il mood alto per il giorno dopo, però siamo a meno del metà del campionato, cioè della regata, quindi siamo abbastanza soddisfatti del giorno, però vogliamo fare meglio, quindi continuiamo così.